I cinesi si preparano a festeggiare il nuovo anno lunare che nasce sotto il segno del gallo. Come ogni anno le festività spingono centinaia di milioni di persone a mettersi in viaggio per raggiungere le proprie famiglie. Si tratta della più grande migrazione umana del mondo e quest'anno al rompicapo logistico abituale si aggiunge un problema nuovo, quello dell'inquinamento, non solo per gli spostamenti ma anche per l'uso dei fuochi d'artificio. Gli spettacoli pirotecnici nati proprio in Cina sono fonte di inquinamento da prodotti chimici e polveri sottili ma sono anche la grande passione dei cittadini dell'impero di mezzo. Le autorità di Pechino hanno chiesto ai funzionari pubblici di dare il buon esempio, rinunciando a petardi e a esplosioni luminose nel cielo.